Anche il comune di Capaccio Pestum installerà sul territorio comunale le case dell'acqua. Lo ha stabilito la giunta comunale retta dal sindaco Franco Alfieri. Le aree dove verranno installate le case dell'acqua saranno Gromola, Ponte Barizzo, Capodifiume, Capaccio Scalo e Capaccio Capoluogo. Le case dell'acqua sono un servizio di erogazione acqua potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente tramite apposite strutture, impianti di filtrazione ed erogazione, posti in genere in chioschi. La casetta dell'acqua è un punto di erogazione automatica di acqua installata in spazi pubblici in funzione 24 ore su 24. E con questo progetto il comune Capaccese mira a sostituire il consumo di acqua in bottiglie con risparmio sulle spese di trasporto, bottiglie di plastica e i costi per i consumatori finali, assumendo sempre di più un profilo ecologico e di salvaguardia dell'ambiente circostante. Il progetto avrà una durata sperimentale di sei anni, rinnovabile per altri sei. Il costo dell'acqua erogata dal distributore non dovrà superare i 5 centesimi al litro.